eccoci qua ragazzi stiamo partendo subitissimo con il astronomical di travis scopp partiamo subitissimo purtroppo questo sarà un video purtroppo perché non mi fa attivare la live quindi lo so ragazzi lo starete vedendo sicuramente il giorno dopo l'evento quindi vi farò vedere intanto l'evento che sarà uscito oggi quindi mi raccomando ragazzi lasciate like iscrivetevi e tutto il resto tutte le altre varie cose andate a seguire anche su twitch anche se questa live appunto la volevo portare proprio su twitch sempre lo stesso nick di youtube soltanto che al posto degli spazi ci sta i trattini bassi però in caso se voglio darci un'occhiata il link sta qui sotto nei commenti ok ragazzi ecco siamo arrivati subitissimo qui è una cosa un pochino brutta è che l'hanno aggiunto stavolta troppo giù si ragazzi purtroppo sono uscite tutte quante le varie missioni e si purtroppo dovrò fare tutte quante quindi appena finirà l'evento domani credo proprio cioè oggi perché sta vedendo perché stavendo il video dovrò appunto si fare le missioni di fornit e le farò tutte quante una botta ovviamente tutte quante una botta però cercherò di farle più tempo nel più breve tempo possibile allora abbiamo 28 minuti quindi ragazzi nemmeno un attimo qui penso proprio che allora andiamoci a prendere subito queste cose perché almeno da avere qualcosa in più non vorrei essere ucciso ve lo dico sinceramente perché sarebbe una cosa molto 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 negativa quella medikit lo vorrei prende io grazie perché la gente zozza e mi vorrà uccider sicuramente quindi dobbiamo trovare qualche arma fino a che non scade la cosa quindi tanta tanta roba ragazzi mi raccomando iscrivetevi lasciate like ragazzi perché questo è tra virgolette ovviamente ufficialmente tra virgolette però la fin fine è ufficiale anche il primo evento di questa nuova season quindi stiamo riportando con il botto tra virgolette con il mio cane youtube perché visto che pornite prima non lo si conosceva e prima di questo evento non avevo possibilità di farlo di fare altre live infatti mica live tra virgolette che mi è uscita abbastanza dico abbastanza perché la fin fine l'ho anche dovuto eliminare da youtube però nella che mi è uscita abbastanza bene è quella dove è comparso il dinosauro o il drago vabbè era un dinosauro che poi vabbè è stato ucciso con una spada dal robot l'unica è stata quella season in cui veramente sono tra virgolette riuscito a fare un live decentemente poi per il resto ovviamente non ho potuto fare assolutamente nulla quindi questa sarà tra virgolette il mio primo evento ufficiale sulla sulla versione nuova manca c'è di minecraft di la prestation allora quindi beveci ultimo sti shield perfetto tanto penso proprio che ce la facciamo infatti la safe casualmente cade proprio qui casualmente proprio come per non so ne scrivere nel legge cade casualmente lì beh ovviamente però ragazzi hanno fatto proprio una modalità apposta quindi penso proprio che non esista il bug che noi andiamo tipo a essere costretta andare qui non penso proprio quindi hanno fatto bene a bloccare mi ricordo che c'era una season c'è stato un bug appunto mi sembra quello di mochimelo che mi era successo ovviamente al tempo non portavo video però penso di non essere neanche riuscito molto bene a essere di aver ricevuto quel bug tipo la safe invece di chiudersi in un punto della mappa adesso non mi ricordo e poi ovviamente stiamo parlando di mappe diverse quindi era praticamente al centro diciamo era arrivata la tempesta e andava tra virgolette a sfiorare il il punto dell'evento di machimelo mi ricordo se era al centro tipo l'evento di machimelo comunque andava a sfiorare delicatamente il punto di machimelo e infatti lì mi ricordo che si è dovuto abbandonare per forza la partita di cose e purtroppo i server sono stati pieni e quindi diciamo che è stata una bella sfiga perché sono dovuto uscire mi ricordo se ero io ero uno youtube però vabbè sono uscito e la partita non si è potuta più fa perché appunto i server erano sazzi di player comunque aperto detto tutto questo mi serve il buon pompa quindi io cercando un pompa andrei qui dentro visto che non voglio allontanare troppo allora intanto ragazzi adesso ci vediamo direttamente all'inizio del c'è finisco di buttare un attimo qui intanto mi farò un bellissimo taglio spero di riuscire a fare un qualcosa sempre di bello con l'editing sempre non troppo forzato comunque ragazzi ci vediamo subito al punto della live cede dove doveva partire la live però al concerto in poche parole ci vediamo subito al concerto un bel concerto gratis comunque è un piccolo spoiler appena sono entrato nel launcher di fornite appena ho fatto tutto quanto il login e sono passato al come posso dire alla sezione battaglia online mi ha subito che vado veramente subitissimo il tutti quanti i regali di oggi tra cui appunto il varie il trenino c'è l'aeroplano che assomiglia un treni un trenino piccolo è molto veramente piccolo l'ho visto ce l'abbiamo visto prima che andava non mi è piaciuto sinceramente tanto avrei preferito delle ferrovie un pochino più lunghe e un pochino fatte meglio però sinceramente così forse è anche meglio da come l'hanno fatto adesso perché altrimenti dopo poteva esserci tipo dei bug per quanto riguarda tutte quante le animazioni e potevano essere troppo grandi perfetto ora andiamocene subito al concerto ragazzi il primo resoconto 17 minuti mancano a dopo ancora tra capri piccolo resoconto stiamo a 7 minuti il tempo che mancano dell'evento e ragazzi guardate che cacchio hanno creato faccio un attimo vedere da lontano cioè hanno creato tutto sto popò di roba per arrivare più in cima possibile più dritti ovviamente possibili e penso che non so neanche come hanno fatto così tutta questa roba perché sembra immaginabile perché c'è uno appena vede una costruzione la distrugge e questa non è stato così questa su questa fascia di costruzione non è stato così fortunatamente però poteva un pochino più dritta cioè guarda qua guardate qua vado una costruzione un pochino meglio qua perché altrimenti ok se mi dite perché va così veloce è perché ho allungato troppo la sensibilità perfetto ora è una zona peneggiante quindi è ancora molto molto meglio allora ragazzi io non voglio dire ve l'avevo detto ma mi sa che ve l'avevo detto ah si è tolta seriamente raga si è tolta si è tolta la tempesta figo raga figo 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 veramente figo non bello figo però figo 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 hanno tolto tutto quanto bello bello o la mia testa si intensifica beh dai ragazzi è fissio dai troppo figo il tutto mettiamoci qui io volevo stare là sopra però vabbè taggnata dai ci metteremo qui e aspetteremo un pochino il tutto dai forse riusciamo ancora cosa posso picconare non posso veramente picconare fatti picconare fatti picconare no non posso far picconare peccato io però vorrei andare la sopra per vedere un pochino il tutto dalla qui non sembra troppo bello quindi direi di andare subito la sopra almeno di provare abbiamo un minuto disponibile allora però ragazzi avete visto che la mia sfiga si stava intensificando ok passiamo per di qua dai più veloci possibile abbiamo messo ragazzi altrimenti non ce la faremo mai di qua di qua ok passiamo di qui di qui poi andiamoci di qua vedo cose ok vedo fesserie vedo soltanto fesserie ragazzi oppure fessure non lo so ormai non riesco a capirci più niente troppi troppe buildate ok qui magari c'è una buildatura un pochino migliore diciamo proviamo a scavare un pochino anche di qua tutto cavolo hanno buildato oh oh raga 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 eccoci qua siamo soltanto noi qui secondo me è meglio dai io provo a sta qua dopo al massimo al massimo dopo ragazzi ovviamente andiamo giù se qualcosa ce lo perdiamo però non credo proprio cioè ragazzi guardate che bella vista che c'è da qua che figata sono cominciano a mettere canzoni no no ragazzi dobbiamo scendere e forse dobbiamo scendere per forza ragazzi è l'unica ragione di vita perché dobbiamo scendere guardate poi che effetti ci stanno e forse dobbiamo scendere volevo stare là sopra ma guardate secondo me ho fatto meglio stare qui sotto purtroppo è così ragazzi lì non era una bella vista secondo me è meglio stare qua dai 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 mamma mia sta partendo tutto rega ma che è sta roba ma che è un boss 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 tu le fai Ma questo è oggi il strutturo è questo? No, a quanto pare no Infatti stava tra il video e stia volando sopra le strutture Eeeh, raga Che figo Wow C'è no, raga, dai Mai visto nel primo Una cosa del genere Che figata Un pochino non gli setto Però Qua cosa starebbe facendo? Eeeh, Maurizio Quanta figata Un pezzo solo Oddio Quanto fotoflash al mondo Wow Wow Ah ma l'acqua è solida Ah, hanno reso l'acqua solida Ovviamente infatti E loro sono ovviamente Pezzi volanti di codice No, guardate qua tanta roba Che figata Wow Wow No, io voglio prenderci un attimo contro Qualcosa Voglio vedere se sono fisica No, raga Quanto fotoflash lo schermo Quindi sono fisica O non sono fisica O non sono fisica Queste cose E se sono fisica Ragazzi È problematica la cosa No, non sono fisica Posso attraversarle Perfetto No, perché altrimenti Sì, ovviamente Ci preoccupiamo un pochino Però, vabbè Vediamo c'è questo l'evento ragazzi Cioè, guardate qua La mia skin mi fotoflash Cioè, ho già fotoflash intolito Così proprio Cioè, guardate qua Ma che messi e ti Wow La mappa Controllo sempre la mappa ragazzi Perché è un pochino strano Tipo Ma è stato un effetto grafico Purtroppo Wow però Cioè, guardate che cosa Mi ha ricreato In un gioco No, stiamo cadendo Stiamo per cadere Però guardate che figato Che cacchio di figato Oh mio Che figato Ah, ci stiamo muovendo Figo Ma quanto fotoflash lo schermo Ah Ci incliniamo Che figata No, vabbè ragazzi All'incontrario Che tutto quanto oscuro Ma ci stiamo Ma ci stiamo po' muovendo Figo Ci stiamo po' muovendo Dove staremo andando Ragazzi Qui sapevo comunque Che era un pezzo dell'evento Tutto ciò Quindi penso proprio Che tutto questo Andrà a intoccare No, la vecchia mappa Qua ci deve essere Forza la vecchia mappa O meno un piccolo spoiler Un piccolo Easter egg Che figato Cioè stiamo uscendo pure Della mappa Stiamo usciti pure Della mappa No, vabbè Eccola Miseraga Wow Questa cosa mi ricordo Tipo il cubo Kevin Quello Mamma mia E se tipo Stavassimo ritornando Nella vecchia mappa Tipo No, vabbè Sarebbe un sogno Praticamente La farfalla Raga La famosa farfalla No Siamo ritornati Sicuramente Ma no Ragazzi Noi ci possiamo salutare L'evento era questo Spero vi sia piaciuto A me Sinceramente come primo evento Neanche tanto Mi era piaciuto di più Se devo essere sincero L'evento Ah non posso costruire ora Cioè non capisco perché Non mi fa costruire qui Vabbè ragazzi Comunque Mi piaciuto di più quello Del Del dinosauro E la spada Però vabbè Dettagli Spero che Questo video Barra live vi sia piaciuto Noi ci vediamo un prossimo video Barra live Mi raccomando Di lasciare la descrizione Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.